Musica Venerdì primo settembre, buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. Sviluppo e lavoro se ne parlerà domani a Montaquila nel corso della festa provinciale dell'Unità. Tra gli altri interventi anche quello del presidente della regione Frattura, capo di una giunta a Monca, dalla quale manca da due anni proprio l'assessore a lavoro. Nel gennaio 2016 l'abbandono dell'allora assessore Michele Petraroia, oggi tra i più critici verso il governatore. Sentiamo Pasquale Di Bello. La chiamano ancora Festa dell'Unità, ma l'unico colore rosso che è rimasto delle leggendarie bandiere comuniste è quello della vergogna che gli si manifesta a paonazza sul viso. Parliamo delle copiose Feste dell'Unità organizzate dal Partito Democratico Molisano quest'estate su tutto il territorio regionale. La prossima, quella del 1 e 2 settembre a Montaquila, in provincia di Sernia, si occuperà di un tema drammatico rispetto al quale le piaghe e le ferite molisane sono sotto gli occhi di tutti, il lavoro. Sabato 2 settembre, insieme agli altri relatori, salirà sul palco anche il presidente della regione, Paolo Di Laura Frattura, a cui il Molise, tra i tanti, è debitore di un ulteriore primato. Quello dell'assenza più lunga, ambigua e deleteria dal governo regionale, proprio dell'assessore al lavoro. Dalla dipartita politica dell'ex titolare Michele Petraroia, venuta nel gennaio del 2016, nessuno ha più occupato la poltrona di responsabile di uno dei ruoli centrali per lo sviluppo di una regione. La delega l'ha trattenuta per sé il presidente Frattura, un vero colosso del cash and carry politico che ha scambiato evidentemente la sede di Via Genova per quella di una cantina dove gli unici due giochi consentiti sono l'asso pigliatutto e il rubamazzetto. Non si spiega diversamente, se non con una liturgia imbarazzante che sta alla politica come una sgommata alla nona sinfonia di Beethoven, l'atteggiamento accentratore di Frattura. Noi non abbiamo un presidente di regione, ma una sorta di reincarnazione di Pico della Mirandola, ovvero un geniaccio capace di pensare ad ogni cosa, sanità e appunto lavoro. Tanto per dirne due. Peccato che i risultati siano miserrimi, le aziende chiudono, i ragazzi espatriano, la disperazione dei lavoratori e delle famiglie cresce e come contropartita dalla regione arrivano soluzioni farlocche come quella dei tirocini formativi o di un'area di crisi di cui non si capisce ancora quanti soldi realmente investirà il governo regionale. Ma loro fanno festa, fedeli al vecchio adagio borbonico, festa farina e forca, capace di illudere il popolino e poi trascinarlo al patibolo. A questo, al danno, si aggiunge poi la beffa, quella di chiamare festa dell'unità un teatrino che da berlinguerra a forte braccio fa girare nella tomba tutto il vecchio apparato e l'antico popolo di botteghe oscure. Ma i tempi sono cambiati, come profetizzava Dylan 50 anni fa. Peccato che siano cambiati in peggio, arrivando sino a questo tempo dove si contrabandano stracci per bandiere. Frattura per un giorno farà il comunista al sidol, lustrandosi a nuovo per la festa, ma non gli basterà. Se un tempo il lavoro aveva bisogno delle bandiere rosse, oggi non potrà mettersi certo nelle mani di un neofita in libera uscita da Forza Italia. Il livello dell'acqua nella diga di Guardia Alfiera continua inesorabilmente a scendere. In 30 giorni l'acqua del lago si è abbassata di circa due metri e mezzo. Questo è quanto emerge dalla rilevazione mensile effettuata dall'azienda speciale regionale Molise Acqua. La situazione dunque va peggiorando, soprattutto a causa dell'assenza di piogge che si protrae da diverse settimane. La portata del fiume Biferno, che rifornisce il lago artificiale, ormai ha i minimi storici. I problemi per l'approvvigionamento idrico potrebbero presentarsi nei prossimi giorni, soprattutto nei comuni del Basso Molise, al nucleo industriale di Termoli e per l'irrigazione dei campi. Il servizio meteorologico comunque ha preannunciato la fine del caldo africano e l'inizio di un periodo più fresco che porterà anche pioggia. Raddoppio ferroviario tra Termoli e Lesina. Il consigliere comunale di direzione Italia Antonio Di Brino ha bollato la recente visita del ministro del Rio con il presidente Frattura come una mera passerella elettorale. La città non avrà benefici da questo intervento e la regione non ha fatto nulla per avere concrete compensazioni, ha affermato l'ex sindaco di Termoli. Sentiamo Fabrizio Occhionero. Termoli uscirà penalizzata dal progetto del raddoppio ferroviario con Lesina e l'amministrazione comunale non ha saputo difendere le esigenze della città. Così il capogruppo di direzione Italia insieme per il Molise Antonio Di Brino è intervenuto sul tema al centro della recente visita del ministro dei trasporti Graziano del Rio. L'ex sindaco ha ripercorso tutte le procedure relative a un'opera di cui si parla da tempo evidenziando quelli che a suo avviso sono i punti critici e i mancati interventi. Il nostro parere contrario era nato dal fatto che l'amministrazione comunale allora aveva la possibilità di chiedere compensazioni attraverso proprio il parere da esprimere. Dopo caduta la mia amministrazione quando sia l'amministrazione comunale di Termoli con la guida sbrocca che il governo regionale a guida frattura hanno espresso parere favorevole al raddoppio ferroviario Chiedendo come modifica solo la delocalizzazione che è un fatto positivo dei binari a Campomarino ovviamente da lì in poi il comune di Termoli non ha più la possibilità di rivendicare posizioni all'unica facoltà di andare come ha fatto sbrocca col ministro del Rio col cappello in mano a chiedere qualcosa. Di Brino affiancato dal coordinatore cittadino Cristian Zami ha rimarcato anche un altro aspetto. Quando si è celebrato il consiglio comunale su richiesta dell'opposizione al comune di Termoli in Agni nell'aprile 2015 ha detto che vi erano due anni di tempo per chiedere le compensazioni i due anni sono abbondantemente trascorsi. Io dissi in quella sede in consiglio comunale ognuno di noi ha un'aspettativa di vita di due anni quindi tra due anni ci rivedremo, sono passati due anni e mezzo. Mi sembra che Termoli non abbia avuto nessuna compensazione mi sembra che quella dell'8 agosto è stata una passerella elettorale. Il progetto continua ma per il consigliere di opposizione occorreva muoversi prima per ottenere modifiche e compensazioni per la città. Credo che non ci siano più immagini di manovra per poterlo modificare, né vale quella idea di sbrocca dell'interramento perché io mi chiedo dov'è il progetto che prevede l'interramento della stazione. Quando lo vogliamo fare questo progetto? Nel 2026 come ha detto Del Rio, quando l'opera, i tre lotti dovranno essere completati. Mi sembra che sia una presa in giro. L'Università degli Studi del Molise comunica che domani la segreteria studenti, il settore diritto allo studio con lo sportello amico, il centro di orientamento e tutorato resteranno aperti dalle 8.30 sino alle 13.30 per dare informazioni ad aspiranti matricole, giovani, studenti, laureati e famiglie. È tutto per la nostra informazione. Adesso la rassegna stampa. Con Nicola Passarelli in regia vediamo come titola il giornale del Molise.it. Furti di trattori, estorsioni e pizzo per lavorare nei campi, maxi operazione dei carabinieri, il procuratore Vaccaro dice denunciate. Poi termoli, cena di solidarietà per Amatrice, riuscito l'evento della misericordia, raccolti 11.000 euro, incendi in basso Molise, numerosi interventi dei vigili del fuoco di Termoli, raddoppio ferroviario tra Termoli e Lesina di Brino, solo una passerella elettorale. Pampanella di San Martino in Pensilis nasce il comitato promotore per il marchio IGP. Ci sono poi le altre notizie sul giornale del Molise.it e la sezione editoriali Idee e Opinioni. Vediamo come titola, primo piano, Molise, vaccini obbligatori, lunghe file e genitori in preda al panico. Nervi tesi e ambulatori presi da assalto a pochi giorni dall'inizio delle elezioni. L'ASREM ha allestito un vademecum. Molti sono in regola ma non lo sanno. Questa mattina il governatore Frattura e l'azienda sanitaria presentano una guida con tutte le informazioni necessarie. Poi in taglio alto rubavano mezzi agricoli e poi chiedevano il riscatto arrestati. Un uomo di San Martino in Pensilis è finito in manette, uno di Santa Croce ai domiciliari, due obblighi di dimora a Montorio e a Pricena. La procura di Larino ha accertato legami con la mala foggiana e scoperto pure un giro di racket imprenditori costretti a pagare per lavorare. Isernia e il NAS trova mezzo quintale di carne avariata chiuso un ristorante. Poi primarie non appena saranno indette si faranno avanti i candidati dorsi e di donato centro democratico a metà tra PD e Ulivo 2.0. Poi economia confessercenti suona la sveglia alla classe politica serve uno scatto d'orgoglio altrimenti meglio l'annessione. Montagano dedica un giardino a San Francesco d'Assisi alle 17, oggi il taglio del nastro. Poi Isernia, autunno caldo in municipio Fantozzi in Pol per la giunta. Vediamo le altre notizie. Campobasso, vertenza SEAC, l'azienda tira dritto dall'11 settembre, 10 autisti in meno. Venafro, puzza di plastica bruciata nella notte, la città si ribella, ci state ammazzando. Isernia, migranti, il prefetto guida, dice l'accoglienza produce ricchezza, polemica sui social. Per quanto riguarda invece le notizie di sport, calcio, lupi, campagne abbonamenti ancora in sordina, quota 250. La città attende, nonostante gli investimenti del club, domenica il debutto interno del Campobasso. Eccellenza, dilucente, lancia il vasto Girardi e dice ritmi alti per giungere in Serie D. Reggby, gli Hammers riuniranno il capoluogo sotto un'unica bandiera. Vediamo adesso il quotidiano del Molise. Estorsioni, epizzo, la mala foggiana fa fare in Molise, rubavano trattori e chiedevano denaro per restituirli. Appello dei carabinieri e cittadini, denunciate, non abbiate paura. Poi frontale sulla statale 17, coinvolto un portavalori, preoccupano i due feriti. Isernia, carne andata a male, chiuso un ristorante, San Martino in Pensilis, fiamme vicino a un campo fotovoltaico. Da Campobasso arriva il via libera Consiglio, approvato il DUP, il documento unico di programmazione, con 17 voti favorevoli. In taglio alto l'Istat ha certificato i dati, cresce il lavoro, Boccardo, Will, bicchiere, mezzo pieno. E poi imprese una su tre e under 35 nel secondo trimestre del 2017. Baranello aveva 91 anni, se ne è andato Claudio Niro, il signore della cultura e il mondo della cultura molisana a lutto. Era direttore del Museo Civico di Baranello e della Biblioteca Comunale, due scrigni di cultura in Molise. E poi vediamo le notizie di sport. Serie D, lupi, sale l'attesa per il debutto, prevendita aperta. La favola, poi il giovane Di Pardo, firma il contratto con la Juve. Vediamo adesso come titola futuro Molise. Izzo chiude la biblioteca provinciale di Isernia nel silenzio più complice, si apre un'altra vergogna. Poi Santa Maria del Molise, grave incidente stradale sulla statale 17, 5 i feriti. Basso Molise, stroncato giro di estorsioni, arrestate 4 persone. Poi Isernia vertice in prefettura su sicurezza durante le manifestazioni pubbliche, contrasto al fenomeno dell'incidentalità stradale. Ci sono poi le altre notizie su futuro Molise. I quotidiani nazionali, adesso partiamo con la Repubblica. Il lavoro cresce ma è precario. Gentiloni più di 23 milioni di occupati al record. 8 contratti su 10 però sono a termine fuga dai nuovi voucher. L'Inps teme un calo dell'80% e il ritorno del sommerso. E poi Immigrati Minniti divide il PD. Così inseguiamo la destra. Renzi frena, sta facendo bene. Il reportage, il canto di Europa, viaggio a vela nell'Egeo cercando l'Occidente, i profughi, la Brexit, le tensioni dell'Islam, la scoperta dell'identità perduta del continente. Il reportage è firmato da Paolo Rumiz. Vediamo adesso come titola invece il Corriere della Sera. Violenze sulle donne, nuovi casi, accusi, arrestati, tre stranieri. In eccella anche un italiano, scontro politico. E poi c'è questa fotonotizia. L'uragano danni per 160 miliardi e 38 le vittime, il disastro più costoso d'America. E appunto nella foto si vede un'auto sprofondata in acqua nella Telephone Road di Houston, allagata. Il Tar del Lazio ferma Milano, no al numero chiuso alla statale. Università non si può nei corsi umanistici, l'Ateneo selezioni necessarie. Dal Corriere della Sera passiamo a vedere la prima pagina della stampa di Torino. Il piano di Minniti tocca alle regioni integrare i profughi, ma il governatore Veneto Zaia dice non possiamo fare altri sforzi, corsi di italiano e formazione professionale. Poi Los Angeles cancella il Columbus Day, rappresenta il genocidio dei nativi italo-americani in rivolta. Bambini, in questa foto, sventolano bandiere americane alla celebrazione del Columbus Day. Bandiere americane, ma anche il tricolore si vede. Poi la confessione del Papa, la psicanalisi mi ha aiutato. I dati state IMSS, Paradosso Italia, crescono gli occupati, ma anche i senza lavoro. Dalla stampa passiamo al Fatto Quotidiano. La Banca d'Italia è sotto inchiesta, Procura di Roma è adesso visco e arrischio. L'Avvocato Gentiloni, cugino del Premier, informato di tutto, firma la denuncia. Scrive il Fatto Quotidiano. Poi più facile licenziare e attacco ai sindacati il Jobs Act di Macron. Francia, tutti i favori alle aziende. Quei veri numeri sull'occupazione, boom di senza lavoro. E Renzi, intanto esulta, scrive il Fatto Quotidiano. I garanti PD primari in Sicilia obbligatori e perciò non si fanno. Dal Fatto Quotidiano al messaggero, occupati ai livelli pre-crisi, oltre 21 milioni le persone che hanno un lavoro ma la disoccupazione giovanile sale al 35,5% le pensioni di chi ha assunto oggi, uscite anticipate, niente mini assegni con carriera continua. Dalle spiagge alla città aumentano i casi di violenze, moleste, la folle estate degli stupri. E poi ci sono gli approfondimenti, l'umiliazione delle donne e la società senza pudore. Vediamo adesso come titola invece Libero, la fabbrica dei fannulloni, soldi dello Stato ai giovani per non farli lavorare. Il governo discrimina i poveri italiani, il reddito di inclusione è un regalino elettorale a chi non guadagna, ma paragonato a quanto spendiamo per mantenere un profugo è una mancia e costa solo il 30% di quanto sborsiamo per l'accoglienza. Poi l'emergenza stupri è provocata dall'immigrazione, scrive Pietro Senaldi, 5 in 24 ore. Poi pensioni a chi non paga, tagli a chi paga. Il sistema contributivo è stato smantellato, scrive invece Fausto Carioti. Il sole 24 ore, quotidiano economico, occupati ai livelli pre-crisi ma i più giovani sono senza lavoro. Il calo degli inattivi spinge però la disoccupazione all'11,3%, incentivi a chi trasforma contratti a tempo. Macron intanto vara la riforma, più contratti aziendali. In Francia, pressing della BCE sulle banche locali, i timori sui nuovi criteri dei controlli della vigilanza, spingono nuove aggregazioni, casi della Bremer Landesbank e della portoghese Banif, il dossier popolari. La verità, vediamo i titoli in prima pagina, la mappa dei luoghi dove ci si scannerà guerra a immigrati italiani, dopo i tumulti di Roma, inchiesta sui centri d'accoglienza, lager ad alto rischio di conflitti con la popolazione, sono decine, da Rimini a Milano, serie di stupri a opera di Magrebini, vittima anche un ottantenne. Maurizio Belpietro scrive, il capo della polizia vuole la sanatoria, Gabrielli fa politica. Poi Oliver Stone intervista Vladimir Putin e c'è la foto appunto di Putin intervistato al Cremlino dal regista Oliver Stone. Poi sui vaccini la Lombardia sfida il governo, la proroga di 40 giorni bollata come fuori legge dal ministro Fedeli, però Maroni tira dritto. Passiamo adesso a vedere la prima pagina di Avvenire, il quotidiano dei Vescovi. Anche qui il lavoro ora cresce ma resta a termine. Poi il Papa e i Rabbini, Roma si avvicina a Gerusalemme, incontro per il cinquantesimo della nostra etate. Migranti, altri frutti amari giallo sui fondi alla Libia, oggi vertice a Roma, ad Acqui filmati insulti a rifugiato, sputi a un prete in chiesa. Vediamo adesso come titola invece il manifesto, precari miei. I dati Istat registrano un aumento dell'occupazione, 23 milioni di posti di lavoro, ma il tasso di disoccupazione cresce a causa del calo degli inattivi, più over 50 occupati, meno giovani e donne, record dei contratti precari. Il governo e Renzi brindano ma il Jobs Act c'entra poco. Linda Laura Sabbadini dice crescita insufficiente e restano le disuguaglianze. Harvey travolge le raffinerie texane, l'uragano mette fuori uso il 15% degli impianti in America. E' il mattino di Napoli, boom di occupati ma non giovani. L'Italia torna ai livelli precrisi, 23 milioni di posti, Renzi con il Jobs Act un milione in più al minimo storico, il tasso di inattività ma la disoccupazione degli under 25 cresce al 35,5% scontro sulle cifre. Dal mattino passiamo al tempo, aiutiamoli a casa tua. L'Italia esplode sui migranti, stupri a Rimini e a Monza, arrestati due marocchini, preghiera islamica al Prenestino e rivolta, paura per un altro palazzo da sgomberare. VIP, Preti e Neo Boldrini adottate un rifugiato ma al tempo rispondono. Così scrive Marcello Veneziani. Poi parla Nello Musumeci e Berlusconi, vinciamo in Sicilia e poi in tutta Italia. E accusano Colombo e dimenticano gli indiani, un da tanti italiani negli Stati Uniti e da noi nessuno reagisce, scrive ancora il tempo. Vediamo adesso il secolo d'Italia, l'estate degli stupri, è il titolo in evidenza, e poi stampa degli Stati Uniti, boccia l'Italia, migranti, meglio Silvio. Poi divorzio, banche immobili, un altro segno della crisi e addio al Columbus Day, furia liberal in America. La gazzetta dello sport, vale shock, Rossi cade ancora in sella a una enduro, frattura di tibia e perone, mondiale, addio. Milan 6 da 8, affari record, speso un miliardo, mai visti tanti soldi, si è chiuso il calcio mercato, c'è lo speciale della gazzetta, il voto più alto va ai rossoneri, acquisti per ben 228 milioni che ora vogliono prenotare Janto e Pellegri. Per gennaio sul podio finiscono le torinesi, 7 e mezzo alla Juventus e al Torino, 7 a Inter, Napoli, Roma e Lazio, questi voti della gazzetta per il comportamento nel mercato. Poi è un toro scatenato, Niang con Anzaldi, Zappacosta, Vada Conte al Chelsea, poi Inter, Caramocchi, Nanie della Lazio, Kinn invece va in prestito al Verona dalla Juve, Bappé, Paris Saint Germain, ufficiale, Llorente, Agli Spurs. Poi Eurobasket, Israele, K.O. Beli, Melli, Datome, l'Italia che è esordio, e poi Eurovolley fuori ai quarti, di Sastro, Azzurro e il Belgio ci schiaccia, Italia sconfitta 3 a 0. E con la gazzetta dello sport termina la nostra rassegna stampa, il prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise, come sempre in diretta alle 14 con il TG. Grazie per essere stati con noi, buona giornata. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.